Continua l'attività dei carabinieri sugli sci della compagnia di Domodossola in montagna. Nel solo mese di gennaio sono stati assistiti 25 sciatori. Alcuni di questi interventi sono stati compiuti insieme ai volontari del Servizio Soccorso Piste. 18 le sanzioni per infrazioni alla legge regionale, dal mancato uso del casco protettivo da parte di sciatori minorenni all'inosservanza del divieto di accesso alle piste chiuse durante la manutenzione o durante operazioni di soccorso e altre. Le persone controllate sono state 38, due delle quali segnalate perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Le attività proseguiranno fino alla fine della stagione, in coordinamento tra i reparti dell'arma del territorio e le società che gestiscono i comprensori sciistici o solani di San Domenico di Varso, dell'Alpe Lusentino, della Val Formazza e della Val Vigezzo. E sempre i carabinieri di Domodostro hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un uomo di 49 anni, residente a Santa Maria Maggiore. Durante un controllo del territorio, in una via di Druogno, hanno notato la sua auto che procedeva con andatura irregolare. L'hanno fermata e il conducente ha spiegato di aver scelto una strada interna per evitare di tornare a casa lungo la statale 337, secondo lui pericolosa perché è più trafficata. I militari, non convinti della spiegazione e dall'alito ovinoso del 49enne, gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcol test. L'uomo si è rifiutato e quindi, oltre alla denuncia, per lui sono scattati anche il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.